benvenuti in questo altro video di Xden, la quarta puntata di Minecraft per PS4, la quarta puntata bene davvero? si, allora, non so dove c'eravamo... calderone, ah allora, eravamo arrivati dove? dove abbiamo preso le liane si per fare l'agricoltura di sopra ah, no, ti sei deciso poi ovvio si, però prima dobbiamo fare sempre la strada in legno oddio, ma qua bugiamo la montagna aspetta oddio oh my god oh my god, oh my god, oh my god non so, non mi ricordo ma che cosa, tu non lo faccio io nes io niga non mi ricordo che ho un bastone, basta eh, infatti, ecco, questo qua mi ricordo, non lo so dove oddio, sono caduto oh my god, oh my god, oh my god è impossibile che non conoscete il bastone cioè, vi picchio dunque ho cambiato anche la mia skin aspetta no ecco, questa qua, guardate è proprio bellissima, vero? comunque a me piace, quindi è bella allora, quindi qua siamo a Zapparavigna no, 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 qua siamo, io sto allargando almeno la casa sono un carino ragazzo come? comunque fa cosa? eh, sai lì qui ma che stai, cosa stai lì? sali! ma perché mi hai fatto il tutorial? porca ciosba non capisco che se questi qua sono due piccoli uguali o sono diversi? boh io ovviamente le butto allora, fra poco cominceremo la serie delle rapine esatto perché cioè, noi che inizieremo già abbiamo registrato, solo che dobbiamo andare solo sul canale quindi aspettate solo un po' e arriveranno cioè allora, noi vi spiego noi che cacchio di scala è? eh, non lo so, però no però le provvisorie ah quindi, ma da così allora, dove è la mia terra? la mia terra? la mia terra? oh, fa chi ne è? oh, fa chi ne è? oh, fa chi ne è? beh, è pubblicato ma che ho fatto poi vendo oh, fa chi ne è? chi minchia è che è martello? eh, sto per sé tanta roba comunque eh, l'altro giorno mentre io stavo pensando perché io penso eh, sì, è vero comunque eh, ho pensato eh, ma va questa parte leviamola tutta la terra ci mettiamo in legno e ci facciamo un'entrata bella particolare guardo, se me c'è che riesco, no? eh, vabbè, quello che è allora eh, a me mi serve una pala ce l'hai? c'è nella cesta oh, dici, c'è la loro ma non ho una pala non c'è niente aspetta, prendo i bastoncini findus sì, sì di capitano ricorderanno chi? no, di capitano ah, di capitano Scotti findus ma si chiama findus, il capitano ma che ne sa ciò? ma c'è una pala ah, vero male che non me la sono craftata in caso non ho sprechi totali? no, in caso poi ah, in caso poi ah, in certo, riesco il casco? che riesco no oddio però dobbiamo stare senza protezione perché la sto costruendo sempre riesco immediato eh, no, non ce l'ho non devo tenere la nostra fonda del tubo c'è detto perché riesco si mangia ovviamente eh, no, perché devo fare il tetto? aspetta beh, aspetta ma qua qua non si possono unire i picconi? eh no peccato no 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 eh perché è che ma comunque l'acqua vedi che può arrivare fino a quattro blocchi di distanza ma no due no tu ma se tipo io le metto a distanza anni luce da dall'agricoltura tipo anni luce ok vado obbiettivo di scopo inizia a fare la protezione c'è sotto il sole 2 quando ho sento domani a piedi passato da dove è vero che mi dobbiamo preoccupare c post con dei sbagliati un po non ho un altro quadro ma che stai facendo è volo sapere la distanza la ponte dopo un pezzo del tutto che mi chiamo a rinnovare il suo punto quello è un'ora che scusa le condizioni a mano c'è così c'è uno scheletro che sta muorendo E' un'agricoltura, non deve essere un palazzo di 5 piani a 6 stelle, ah? Ok. Deve essere la 6 stella. Deve essere geometricamente tutto falso. No, 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 non ce lo mettere. Tanti bordo già c'è. Eh, no, è per indicare che qui non si do. Dai. Lo sto blocco sparco. Ma in domani, ma in domani. Ma in domani, ma in domani, ma lo spacco. Ok, ok. Ah, qua è morto lo scheletro. Figo. Figo non... Qui non c'è un legno, ero come sempre. C'è un'asse. C'è ma tutti i legni che abbiamo preso dov'è? Dov'è tutti i legni che abbiamo preso? Dov'è tutti i legni che abbiamo preso? Non c'è la risposta. Io ce l'ho. Perché? Ma dai, buttalo un po'. Almeno un blocco. Uno? Sì. Perché? Perché? Perché mi serve perché già c'erano uno, io. Mi sembra un passoncino. Sì. Ma un blocco mi devo buttare, eh. Tieni. Ecco un blocco. Vabbè, lunga. Non sto usando per l'apicoltura. Sennò mi serve Pietrisco. Io quando Pietrisco c'ho. 17. 17. Porca tutta. Pena. Allora. Quando? Quora io faccio un parkour. E' mi dico parkour. E' mi dico parkour. E' mi dico parkour. E' mi dico parkour. Te lo spiego perché faccio parkour. Perché così solo i player possono. Allora. Allora. Vabbè, mi interessa. Lo so che l'agricoltura è squadratissima, però... me ne frega di tanto. E' mi dico. Vabbè. Vabbè, chiamamolo questo parkour. E' un'offesa a tutti i parkouristi, però. Comunque questo. Tipo? Bene. Questo. Questo è il parkour che c'è. Vabbè, non serve per fare un parkour. Serve solo un salto che gli animali non fanno, oppure... E' che la sai il pai d'un sacco. Eh, serve. Il secchio è una zappa. Capito? Basta che salta due da tutte le parti, le mure. Ah, compa. Cosa vuoi? Mi serve un secchio. Eh... Eh... non è schifo perché ci abbiamo dedicato molto alla casa. Sì, vabbè, non si vede niente. Se fanno torce. Mi muazzeremo. Eh, ecco perché ci sono trattato, c'è qua, tipo. Così senta senso. Scendiamo nello scuolito. Come che si fa l'anzacchia illuminato? No. Mi so che è illuminato. Metti una torcia e... Eh, sì, va bene, l'avevo capito, però... Tipo, tipo. Tipo, ecco. Tipo, tipo. No, deve registrare le scale. Eh... Ci cominciamo un attrattamento diversi. Non lo so se avete commentato perché sto facendo tutto e di seguito le cose. I video. Anzionale vuole andare alle colorature. È andato che tutta terra, utilizzo la pala. Certo, e quando inizio a utilizzare la pala finisce la terra. Bene. Ok, questo disco ci vuol bastare. Ma c'è la scala? Eh no, fermo! E che ci entra? Così? Così? Niente, lascia. Perché lascia? Eh, niente. Fallo questa la levo. Vabbè. Vabbè. Però dove sono le porte qua? Vabbè. Vabbè. Sto illuminando con le giochiello. Sto illuminando con le giochiello. Bene. Perché ti sembrava? Ho capito, stai eliminando. Vabbè? Vabbè? Perfetto. Ah, la nostra casa ha una porta. Eh. È un bagno di buchi. Vabbè. 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 Ma la scala fa la dritta quella della agricoltura. È capito. Vediamo. Dove è la scala? Vei! Feii! Veii! 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 allora quindi per salire sopra allora quindi non ci possiamo vedere al prossimo episodio e ciao a tutti